La Chiesa Ortodossa d'Egitto è una chiesa apostolica fondata da uno dei quattro evangelisti, da San Marco. San Marco, africano di Cirene della Pentapoli di Libia, arriva a Gerusalemme proprio negli anni in cui Gesù predicava. La famiglia dell'Apostolo Marco si trasferì a Gerusalemme proprio nel periodo della predicazione di Gesù. E le mise la sua casa a disposizione di Gesù, la stessa casa in cui Gesù fece l'ultima cena. E stuì qui l'Eucharistia. Dopo la morte di Gesù, nella stessa casa, lo Spirito Santo scese sopra la Santa Vergine Maria e gli Apostoli riuniti insieme a pregare. Dopo la morte di Gesù, l'Evangelista Marco iniziò la sua missione di far conoscere Gesù accompagnando gli Apostoli. Fu con Pietro a Gerusalemme, andò con Paolo e Barnaba ad Antiochia, andò a Roma, andò a Venezia, andò in Africa nella sua Pentapoli e finalmente arrivò in Egitto intorno agli anni Sessanta. Quando l'Apostolo Marco arrivò ad Alessandria d'Egitto trovò una città fiorente e cosmopolita. Alessandria era un grande centro culturale, soprattutto per le sue scuole e soprattutto per quelle istituiti da Tolomeo I, la scuola del museo, che conteneva oltre 300.000 volumi che abbracciavano ogni branca del sapere. San Marco ad Alessandria subì il martirò a causa di pagani che non accettavano che San Marco parlasse di Gesù convertisse i gentili. Così un giorno, mentre San Marco, con l'idea, con i cristiani, i preguitieri, stava celebrando la messa di Pasqua, una folla di seguaci del dio vagano Sirapi catturarono San Marco trascinandolo legato per la strada della città e non accettavano che non accettavano. L'indomani lo torturano ancora e morì. I cristiani fortunatamente riuscirono a seppellire il corpo della roccia scavata sotto l'altare. San Marco, il fondatore della chiesa di Alessandria d'Egitto e anche il patrono di Venezia, perché nell'828 dei mercanti veneziani giunti ad Alessandria d'Egitto riuscirono a trafugare le reliquie di San Marco e a portarle a Venezia. Nel giugno 1968, in occasione dell'anniversario del 1900 anni del martirioso obito dell'Apostolo Marco, su richiesta del patriarca Cirillo VI, Papa Paolo VI, autorizzò la chiesa di San Marco di Venezia e a restituire un frammento di osso di San Marco alla chiesa di Egitto. Oggi la reliquia dell'Apostolo fondatore della chiesa copta è costudita nella cattedrale delle Cairo.